Taranto che gli diede i Natali ha celebrato Mario Costa con gli amici della musica Arcangelo Speranza nell'ambito della 73esima stagione concertistica, all'autore di Era de Maggio che conquistò l'Europa con questa e molte altre romanze su versi di Salvatore Di Giacomo, lo storico sodalizio ionico e l'associazione Mario Costa di Sabino Dioguardi hanno reso omaggio con la rappresentazione di Scugnizza al Teatro Orfeo di Taranto, protagonista la compagnia di operette guidata da Elena D'Angelo lei stessa in scena. Sicuramente una Scugnizza molto emozionante perché noi siamo veramente emozionati di debuttare Scugnizza proprio qui a Taranto, perché Mario Costa è un tarantino, i tarantini amano Scugnizza come l'amo io forse e quindi noi siamo veramente molto in trepidazione per questo debutto perché abbiamo voluto proprio ricordare Napoli dare ai tarantini quello che è un po' il gusto, il colore, i sapori di Napoli quindi noi speriamo che l'operazione riesca, che i tarantini siano contenti della riuscita di questa Scugnizza anche perché abbiamo il mandolino vero in buca, abbiamo la chitarra in palcoscenico e quindi il tenore Francesco Tuppo suonerà dal vivo la mandolinata di Totò che è uno dei pezzi più famosi di questa operetta e che dire di più, siamo una compagnia giovane perché la compagnia ha un paio d'anni ma ufficialmente è nata quest'anno, abbiamo tanti giovani che per il primo anno debuttano in uno spettacolo di operetta ma abbiamo anche tanti professionisti del settore come Gianni Versino, Francesco Tuppo, Matteo Mazzoli che sono veterani dell'operetta nonostante giovanissimi